Ora, lei mi dica quanto, eh? Ho donne in abbondanza, armi in abbondanza, ho dimosso ogni pietra preziosa. Ma devo urlare capito senza l'altra parte. Il mio segno. E poi cosa fa sto filmato? Resterà su questo mondo per sempre. Oggi abbiamo un'occasione che mai più avremo. Dove guardo? Oggi combattiamo per l'onore! Per il vostro futuro! Per i vostri figli! Per la vostra mortalità! Gli dèi hanno scelto bene.